Ma per favore, permesso di soggiorno per tutti gli immigrati? E' questa la geniale proposta del leader della CGL, Landini. Secondo il sindacalista, lo Stato dovrebbe riconoscere il permesso di soggiorno a chi è in cerca di occupazione, perché questo gli darebbe il permesso di esistere. Insomma, per la CGL bisogna spalancare le porte agli immigrati, dando il via, in pratica, a una sanatoria generalizzata per gli extracomunitari che arrivano al nostro paese. Basterebbe quindi un'autocertificazione dello straniero irregolare che dichiara di essere a ricerca di un lavoro per far partire una procedura di regolarizzazione. Per Landini, in questo modo, finirebbe il problema del caporalato. Una follia senza senso. Mentre in tutta Europa ci si pone il problema della necessità di contrastare l'immigrazione clandestina, sindacati e partito democratico puntano decisamente sul porte aperte a tutti, non capendo che sono proprio a sinistra i responsabili di questo scempio, avendo spinto allo sfruttamento migliaia di disperati con le loro folli politiche migratorie. L'immigrazione, infatti, favorisce un sistema di riserve di mano d'opera a basso costo che cancella i diritti dei lavoratori. Landini, sveglia!